Questo è il nuovo piccolo investimento che ho fatto per quanto riguarda i video, ci sono delle lenti, delle ottiche per lo smartphone Praticamente questi sono i sei stili, ad esempio c'è il grandangolo, il macro, il fisheye, no ragazzi proviamo il fisheye Guardate che carino con tutte le lentine, c'è il panno per pulirli, dov'è il fisheye? Eccola qui, diamo una pulita alla lente e voilà, sembra di essere in una lavatrice Ma proviamo un'altra lente, proviamo la lente macro che in teoria è quella che ti zooma così tanto che vedi persino i batteri Let's go Guardate come zooma Wow Bellissimo Madonna Guarda, guarda, vedi i dentini della cerniera Guarda che muso Guarda che muso Così Esattamente Bene, sono soddisfatto, queste lenti le userò sicuramente nei miei prossimi video Per valorizzare al meglio i prodotti che andrò a filmare Ha senso, vero? Detta così Ok, questa era la fine del video, ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti